Le iniziative tese alla salvaguardia del punto nascita del presidio ospedaliero di Sulmona continueranno ad andare avanti, in quanto nelle more dell'esecuzione del decreto di razionalizzazione si rinvengono spazi per valorizzare gli elementi oggettivi afferenti alla peculiare condizione geomorfologica di Sulmona. A farlo sapere in una nota sono il sindaco del capologo Pelinio Peppino Ranalli e il consiglio regionale Andrea Gerosolimo, che hanno incontrato poco fa il Governatore dell'Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Il provvedimento di razionalizzazione recentemente rottero dalla Regione, per nessuna ragione al mondo, può rallentare l'ambizioso programma di investimenti concernenti il patrimonio di edilizia e tecnologia sanitaria, che attualmente è in piena fase di attuazione, continua la nota. Il Presidente della Regione ha manifestato interesse a valutare con estrema attenzione la specificità del territorio, mostrando sensibilità rispetto alla pressante richiesta del sindaco e del consigliere regionale, affinché le future generazioni possano continuare a nascere nella città di Sulmona. D'Alfonso ha assicurato il proprio personale intervento, presso la Direzione Generale dell'ASL, affinché vengano sollecitate le procedure concorsuali per la copertura del ruolo apicale presso l'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia e il trasferimento dell'Unità Operativa del Reparto di Pediatria presso l'Ala Nuova del Nosocomio. Grazie a tutti.